Nuove modalità di accesso anche all'ospedale di Perugia in seguito all'entrata in vigore dal 6 agosto del decreto del governo che obbliga i cittadini a presentare il Green Pass per svolgere una serie di attività, tra le quali visitare parenti ricoverati o accompagnare familiari in pronto soccorso. Le aree ospedaliere alle quali si accede solo col certificato verde sono le seguenti, aree Green Pass ospedaliere, degenze, pronto soccorso, mensa e bar. E' vetato l'accesso, ricorda l'azienda ospedalera, a coloro che non sono muniti di Green Pass nelle specifiche aree ospedaliere. Il certificato verde dovrà essere mostrato da tutti i cittadini di età superiori ai 12 anni. Sono esentati i soggetti che hanno idonei a certificazione medica. La direzione ricorda che l'ingresso in ospedale è consentito solo a chi ne ha effettiva necessità, come utenti che devono effettuare prestazioni sanitarie o amministrative.